Salve a tutti ragazzi, bentornati qui su Guidoso Server 2, insieme a un amico su Real Power per una puntatona bonus su Takeshi's Castor. Ti abbiamo spiegato, diciamo, in breve di cosa si trattasse, ma hai ancora dei dubbi? Ho capito, è praticamente una corsa con vari step da seguire, cioè vince chi muore di meno o cosa? Allora, c'è quella mappa lì dove vedi tutta la lava, così spieghiamo pure ai nostri amici, in cui tu o noi poi ci possiamo alternare, dobbiamo cecchinare l'altro avversario che deve arrivare alla fine della corsa, premere una leva, la leva che ti permette poi di ammazzare l'avversario nella lava. Ok, capito. È molto simpatico. È una sorta di passerella della morte, se riesci a fare tutta la passerella ci uccidi. L'altra è un labirinto, quindi quando è che ci si incontra ci si picchia, l'altra è un altro labirinto tipo acquatico, e anche lì quando ci si trova ci si picchia, ma c'è l'acqua e quindi è tutto molto più difficile in effetti. E poi c'è il gioco delle stanze, è un gioco horror, ci sono delle stanze quadrate e delle porte, insomma ci si becca dentro queste stanze che sono anche piuttosto anguste, e quindi è anche difficile combattere e scappare. È un'altra arena, diciamo che sono tre arene fondamentalmente, ma il giochino bonus dal quale io inizierei, perché secondo me ti piace un casino. Quella della lava. Quella della lava. Potremmo anche perdere tutto il tempo lì senza fare il resto, secondo me. Comunque. Ci sta. Allora, si chiama Bridge Ball, eccolo qui. Ok. Intanto vi ricordiamo che come al solito troverete le due visuali su entrambi i canali, quindi qui su Server 2 e su Real Power. Ok. Tu sei Anna per adesso. Ah, tu sei Anna. Ok. Buon Anna. No, tale raga io ho anche la skin con i capelli lunghi, quindi Anna con i capelli rossi proprio. Ci sei, ci sei. Ci sono. Passa il ponte, attenta, pure al femminile, cazzo. Attenta a non farti colpire o cadrai di sotto. Sì, allora noi dobbiamo rimanere in questa piattaforma. Aspetta, aspetta, dove corri? Eh, già, 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 via, 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 vittela prima. Allora, noi siamo su questa piattaforma, tu devi arrivare dall'altra parte e premere la leva. Se la brevi noi cadiamo nella lava. Ho capito. È simpatica. È tutto molto bello. Ma io morirò tantissimo. Eh, per questo è divertente, perché qui l'ospite muore spesso. Cazzo. Ok, ditemi il via, via. Ok, è partito. Guardalo, 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 già gioca di stealth, guardalo. Dai, dai. Ah! Basta, va. Ah! Guardalo, ma corre tantissimo. Eeeh! Peso! Ma fa culo! No, sei morto, dovevi prendere l'armatura. Dovevi cascare nella lava, è più divertente. Aspetta. Devi prendere comunque il tuo kit, perché se no... Ah, ok, ok, scherzavo. Eh, se no schiatti subito. Però, insomma... Però, dai, ehi... Ha capito, ha capito, dai. No, sì, ho sbagliato tantissimo mappo, aspetta. La brigio è boh, si chiama. No, questa e quella. Arrivo, arrivo. Ah, ma adesso scende molto di più la vita. Ah, allora non mi ho modificato qualcosa. No, non ho modificato... Eh, già, guarda, 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 qualcuno mi corre! Guarda, 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 guardalo! Ah! Ah, bella! No, ci mette 40 ore ora a morire! Eh, sì, devi suicidarti nuovamente. Nella la... Non so, purtroppo, per non far spawnare i mob, il mondo è in pacifica. E quindi, noi siamo tutti più pacifici. Ho capito, ma per morire ci mettevo 47 minuti. No, barra suicide, barra suicide. No, tranquillo, tranquillo, sì, ce la faccio. Eccolo, guardalo, che già è tornato. Guardalo, guardalo. Eh, ancora! Cecchini all'ennesima potenza. Ma non c'è un letto da mettere allo spawn là? No, no, non lo so. Però se fai barra back, dovresti tornare dove muori, credo. Eh, ma tornerà la lava. Sì, ma a morire la lava, però. Magari no, magari intelligente. Aspetta, faccio la slash set. Poi c'è la stepni che aveva imparato a fare... Guardalo, guardalo. A fare la mitraglietta. Aia! rifai e poi magari ci scambiamo vai vai si nervo contro tutti e due no tanto si ha aperto per tutta la stessa tempesta è una merce dei pipponi no a se fai barra back ti riporta lo spawn di anna a ok non è vero per guarda dove sono guarda dove sono portando e lo scopro scappa veloce no vai che ce la fai sei morto l'abbiamo proprio freddato ma fa culo ce la faccio ce la posso fare dov'è dov'è aia mi nascondo devi entrare in quell'altra di porta tra cui lo si senza armatura non si sopravvive qua tre colpi e muori ok allora che ti diamo ci sono vuoi riprovarla minchia ho sbagliato di nuovo mappa madonna che preoccupante questa cosa eccolo dove dove si sta nascondendo il tuo paccio non esce fuori lo prendiamo preso in testa vai vai stanno così 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 corri corri no corri no 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 prendilo prendilo nel mezzo nel mezzo nel mezzo vaffanculo però sei stato molto più bravo stai imparando è vero hai fatto hai fatto davvero un sacco di strada sì ma ho preso fuoco di nuovo si è ammazzato da solo no l'ho preso ok ma come fa a respirare con questa barra bec barra becco ti barra becco del culo vai anna dai sennò ti taglio i capelli vai anna che diamo tutti in te nei tuoi capelli rossi vai anna ma questa è la stessa anna che fa le foto a gianni morandi no è Anna dei nirchiop ha capito vai mori no io non salto aia non muore non muore no no uh uh quella freccia non mi ha fatto niente no uh ooh non mi fanno niente le frecce henl no oddio no oddio no oddio si! si! sii?! siINisi siii siii murite murite啊 ci voleva scambiare post. vuoi provare la bellissima ebrezza? si, si, vai kit Q2SS ok eccola qui ok cazzo ci ho fregato io non ci ho capito niente, non andava giù non andava giù, come ha fatto? non lo so, c'è stato un attimo di spawn, Anna, eccolo qui no, ma ti devi mettere l'armatura però, hai ragione no, non mi serve oh aia aspetta che forse ho capito come faceva ma se premio shift vai avanti non muori se premio shift, madonna ma io sto già morendo tantissimo aia ti ho ucciso ti ho ucciso calmi, stiamo calmi via ah, ha preso tantissimo, c'è una freccia in testa via via aspetta aspetta che qua ti ho preso aiuto, no a me se mi tira un'altra botta sono morto ci sta bordello distrailo, distrailo ahahah guardalo le mie skill da legolas fanno il loro dovere cuchito di Anna, che cacchio ok, adesso si sono spawnato dall'altra parte ci sta, ci sta bordello dov'è bordello? no, ancora qui o non ritrovo l'uscita eccolo qui ehm sa ok, devo, devo, devo suicidarmi tutta l'armatura in diamante perchè non mi fate danno? prova a colpirmi aspetta perchè tu, tu c'hai l'armatura uber sgrava tipo ma non è vero, c'ho l'armatura scema non riesco a prenderlo oh si hanno abbassato spawn no ho sbagliato spawn, scusi bene, ok, oh 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 no, 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 no è ancora aperto il kit la lava qua, bisogna richiuderlo dove cazzo vai? no vado io eh ma l'hai richiuso in realtà eh però sono arrivato fuck ciao aia sono caduto giù ah come si fa a riaprire la cosa? ah mi sta picchiando mi sta picchiando tantissimo aia 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 mi è morta mi è morta aia ti uccido no, no mi ucciderà la lava troppo onore ok yeee anch'io nella lava che è bellissimo allora facciamoci un'arena per concludere dai ma morirò tra due anni sceglila tu sceglila tu allora c'è l'acqua, l'abirinto e le porte facciamo quella delle porte ok quella delle porte io faccio Anna si tu sei Anna perché ormai c'è più gusto vai Anna ai capelli rossi se vi trovate uno di voi morirà quello di Anna spawn b quindi quindi noi ah ok non c'è lo spawn di Anna e mi sono ok perfetto spawn out si noi siamo in A ah ma qua si può ci sono tutte le cose ah cazzo figo vi trovate uno di voi morirà ah no qua moriamo ok allora dai si si parte mutiamoci mutiamoci ok ok raga sono di nuovo da solo qua piovo di armatura sento rumori eccolo eccolo eccoli li vedo eccoli eccoli li uccido tutti li uccido uccido prima lui che c'ha la spalla di diamante sei fottuto reddits sei fottuto muori ehh 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 vabbè 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 ma non vai giù cavolo ehh ha vinto ha vinto immeritatamente vabbè ma non è tutta skill zio cosa dici sei uno skilloso non andavi giù ma quanto sei rimasto di energia un cazzo ah di vita eh ce l'ho piena eh figura eh grazie ma tu è bello che c'è con la spada di diamante è vero che queste sono le prime si infatti ho focussato prima sinergo perchè c'è l'unico con la spada porte va bene va bene io direi che questa volta possiamo ritenerci soddisfatti delle sconfitte inflitte ricevute si si ti sei divertito questo è l'importante quando solite rifarlo chiamatemi pure ehh senza problemi ottimo ottimo come dice la persona che aveva un uccello poi ne ha avuto un altro rifarlo poi mamma mia questa è brutta non la capisce nessuno proprio eh lo so ti capisco ti capisco grazie a tutti dell'attenzione e del supporto e noi ci vediamo alla prossima ciao ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti